Grazie. Ok. Eccoci qui. Come sempre accade in bersigliana, le cose capitano sempre a fagiolo perché siamo al giro di boa della politica italiana che è anche il primo giro di boa di questo governo, la pausa ferragostiana che poi pausa lo vedremo fino a che punto sarà pausa. Ma insomma i temi di attualità sono tantissimi quindi non mi perdo in preamboli, però volevo partire da una domanda più generale perché leggiamo i retroscena giornalistici di cui io per prima non è che mi fidi tantissimo, lo dico per esperienza. Un giorno sì, un giorno anche di insomma tensioni o incomprensioni all'interno della compagine governativa e in particolare tra lei il ministro e il presidente Meloni. Ci può mettere una parola di chiarezza su tutto ciò? Innanzitutto grazie perché in un fresco sabato pre-ferragostano vedere tanta gente così mi dà una forza e una gioia incredibile quindi grazie a voi per aver avuto la voglia di lasciare per un'oretta la spiaggia e di non venire a un comizio perché non mi interessa fare un comizio, fare una chiacchierata con Alessandro sui temi della vita reale, non sull'alta filosofia. Quindi ragionamento numero uno a differenza dell'anno scorso, eravamo qua di questi tempi con un governo in uscita, delle elezioni alle porte, non si sapeva come sarebbe andata a finire. Io vi devo dire che questi nove mesi, questi 300 giorni sono stati dal mio punto di vista impegnativi ed entusiasmanti e in questi 300 giorni ho avuto modo di conoscere ancora meglio Giorgia e i nostri alleati e si mettano all'anima in pace a sinistra. Il mio e il nostro obiettivo comune è di andare avanti per tutti i cinque anni che gli italiani ci hanno dato mandato perché andassimo avanti. Quindi non un giorno in meno. Dicevo oggi sui social capiterà anche a voi, ogni tanto ti spuntano le foto di un anno prima, due anni prima, tre anni prima. Oggi la foto che mi è arrivata, ahimè, era una foto che mi ha strappato un sorriso e un rimpianto perché esattamente il 12 agosto dell'anno scorso ero in Sardegna non con un alleato ma con un amico che mancherà molto a me e a tutta Italia e parlo di Silvio Berlusconi. E il fatto che non ci sia più sicuramente ci impone ancora più impegno e ancora più sacrificio. Però con Forza Italia, Fratei Italia, assolutamente in questi nove mesi non c'è stato mezzo dissidio. Anche negli ultimi giorni, poi i giornalisti fanno il loro mestiere, le opposizioni fanno il loro mestiere, Conte e Schlein fanno il loro mestiere. Però abbiamo condiviso tutto quello che abbiamo fatto in questi primi nove mesi e non per merito del governo mio o di qualcun altro, però nel mese di giugno di quest'anno la disoccupazione in Italia è arrivata al minimo storico da 14 anni a questa parte. Quindi evidentemente significa che se le imprese possono contare su un governo che ha le idee chiare si va avanti e aggiungo una riflessione che mi ha portato una signora oggi mentre passeggiamo in spiaggia e mi ha detto grazie perché avete mantenuto questa promessa. Dalla fine di quest'anno e tanti datori di lavoro qua in Versiglia aspettavano in questo momento perché manca mano d'opera anche in questa stagione estiva, chi è sano, è robusto, non ha problemi a casa, non ha disabili da mantenere, può lavorare e rifiuta di andare a lavorare non prende più una lira di reddito di cittadinanza perché mi sembra una scelta di rispetto e di buonsenso. Bene, prendiamo l'ultimo dei temi in ordine di tempo che sono stati nell'agenda politica, che lo sono tutt'ora ovviamente, che è il salario minimo, no? Ma davvero siete contrari ad alzare i salari minimi? Le opposizioni dicono questo, che non volete alzare i salari minimi. No, ma figurati, chi non vuole alzare gli stipendi dei lavoratori? Ci mancherebbe altro, però bisogna vedere sotto il titolo com'è lo svolgimento del tema perché a volte il titolo del tema ti racconta una versione, poi vai a leggere lo svolgimento e si parla di tutt'altro. Penso all'ultima norma approvata in Europa, si parlava ristoro della natura. Uno dice, c'è un regolamento per sistemare la natura e chi qua sotto in Versigliano oggi di buonsenso potrebbe dire no, son contro al sistemare la natura. Poi vai a leggere quello che c'è sotto il titolo e sostanzialmente questa normativa prevede che in Italia si debba abbandonare il 10% della superficie agricola coltivata per farla a bosco. Ora, un conto è amare la natura, un conto è essere masochisti e danneggiare gli agricoltori italiani. Per me l'agricoltura italiana è insostituibile. Non c'è nessun laboratorio farmaceutico che mi può produrre la bistecca sintetica che possa sostituire il lavoro degli agricoltori e dei pescatori italiani. Quindi dietro quel bel titolo c'è una solenne fregatura. E io dico no, salario minimo. L'Italia è uno dei paesi al mondo con più copertura dei contratti collettivi nazionali, più del 90% e ad oggi più dell'80% delle lavoratrici e dei lavoratori seduti qui guadagna ben più dei 9 euro lordi all'ora. Quindi è chiaro che sta a cuore a tutti aumentare gli stipendi. Aumentarli per legge, ad oggi, potrebbe avere la controindicazione assurda che per aumentarlo a una piccola fascia di lavoratori si possa abbassarlo alla maggior parte dei lavoratori e poi una riflessione. Siccome la sinistra dicono che bisogna aumentare gli stipendi a costo zero ma artigiani, commercianti e piccoli imprenditori che già oggi faticano a pagargli stipendi a fine mese e a portarsi a casa i denari per pagare l'affitto e la luce se devono aumentare per legge gli stipendi a tutti come fanno a creare lavoro? Non ci sono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B Per quello che mi riguarda, partite IVA, commercianti, artigiani e piccoli imprenditori sono lavoratori di serie A come tutti gli altri quindi la contrattazione fra le parti sociali può portare all'aumento degli stipendi i contratti pirata vanno contrastati permettetemi di dire però è curioso che la sinistra che propone l'aumento degli stipendi giustamente per lavoratrici e lavoratori poi contesti il governo che dice che per aumentare gli stipendi di lavoratrici e lavoratori le banche che stanno guadagnando decine di miliardi di euro una piccola parte di queste decine di miliardi di euro che guadagnano sulla pelle dei correntisti la devono redistribuire a lavoratrici e lavoratori e allora mettetevi d'accordo con voi stessi a proposito di questo che è l'altro tema che è stato al centro dell'attenzione in questi giorni appunto la tassazione delle plusvalenze delle banche qualcuno però ha obiettato beh ma così state tassando la ricchezza è una manovra di sinistra no figurati io fui uno dei pochi che quando c'era il governo Monti sembrano passati anni luce però c'eravamo in Versigliane in quegli anni ed eravamo in pochi a dire certe cose ve la ricordate? la tassa sulle barche così puniamo i ricchi per aiutare i poveri fu una delle manovre più idiote degli ultimi anni perché invece di punire i ricchi che spostarono le barche punirono i poveri che furono licenziati perché i cantieri si bloccarono io sono un liberale se uno lavora bene e guadagna tanto e assume persone e si compra un'altra casa si compra la bella macchina si compra la bella barca e crea ricchezza e crea lavoro per me non va punito indagato o guardato con invidia e gelosia gli si deve dire bravo perché se non ci fossero gli imprenditori a creare lavoro e ricchezza ci sarebbe ben poco da redistribuire però un conto è l'imprenditore un conto sono gli istituti bancari non tutti perché poi ci sono le piccole banche le grandi banche il credito cooperativo che negli ultimi mesi hanno pensate che nei primi sei mesi di quest'anno le prime cinque banche italiane solo le prime cinque banche italiane hanno fatto profitti per più di dieci miliardi di euro perché? perché quando per dieci secondi al Tg1 passa e negli ultimi mesi è passata tante volte la notiziola la banca centrale europea ha aumentato il costo del denaro uno dice chi se ne frega no chi se ne frega chi ha un mutuo a tasso variabile qua sotto chi ha un fido o chi ha un prestito può fare il paragone fra la rata di oggi e la rata dell'anno scorso quindi le banche sono state velocissime ad aumentare i costi al carico delle famiglie dei mutui degli imprenditori ma non sono state altrettanto veloci ad aumentare gli interessi che corrispondono a chi ha dei soldi sul conto corrente quindi guardate che cosa vi arriva in tasca dai vostri depositi sul conto corrente e guardate di quanto è aumentata la rata del mutuo o del fido quindi questo non è essere un bravo imprenditore lo farei anch'io sto seduto qua a Francoforte decido una roba il mutuo che prima ti costava mille adesso ti costa milleotto quindi io incasso ottocento in più però se tu hai mille sul tuo conto corrente io ti do lo zero cinque e quindi è chiaro che incasso vagonate di miliardi e me ne escono pochine quindi noi cosa abbiamo fatto una piccola parte di questo margine di differenza fra quello che io banca incasso in più e quello che non restituisco sui conti correnti ai risparmiatori rimane nelle casse dello Stato per due motivi uno aiutare chi ha un mutuo a tasso variabile ad affrontare l'aumento della rata due a continuare a tagliare le tasse perché l'Italia è ancora uno dei paesi più tassati al mondo fino a che non riusciremo a tagliare pesantemente le tasse e il costo del lavoro non potremo competere con gli altri io penso che sia fine anno le banche invece di guadagnare trenta miliardi porteranno a casa venticinque miliardi io penso che i loro azionisti saranno contenti ugualmente ma investire quei miliardi in aumento degli stipendi e delle pensioni penso che sarà qualcosa di assolutamente utile ed è ma lo dico da liberale non sono io sono assolutamente contro ieri durante l'incontro che abbiamo avuto sul salario minimo qualcuno a sinistra anche negli ultimi giorni ha proposto una tassa patrimoniale sui risparmi e i beni immobili dei cittadini italiani questa è una follia perché se uno ha la casa su quella casa ci ha già pagato le tasse se uno ha dei soldi sul conto corrente su quei soldi ci ha già pagato le tasse quindi la patrimoniale sui contribuenti no però chiedere che le banche ridistribuiscano una piccola parte dei loro multimiliardari profitti penso che sia un'operazione di buonsenso e di equità sociale sento il ministro una delle foto di questo ferragosto è stata scattata questa mattina sullo stretto di Messina e inquadra una coda chilometrica di auto in attesa sotto il sole di imbarcarsi sui traghetti per attraversare lo stretto si parla di attese di circa quattro ore stamattina per fare quel piccolo tratto di mare eppure c'è ancora qualcuno che ironizza o addirittura è contrario allo sforzo che lei sta facendo per portare a casa il famoso famigerato a sto punto ponte io faccio il ministro dei lavori pubblici delle infrastrutture dei trasporti ascolto tutti perché è il mio carattere poi però se mi metto in testa di fare una cosa faccio di tutto per andare fino in fondo e faccio un esempio oggi si ricorda anche l'ecidio di Sant'Anna di Stazema e mi auguro che tutto il mondo condanni le stragi nazifasciste che sono un episodio che spero la storia archivi con un mai più certo che qualcuno su altri fronti continui dopo 80 anni a farne polemica politica mi sembra irrispettoso di quello che è accaduto ma perché parto da Sant'Anna per arrivare al ponte perché ieri in comune a Forte di Mar mi ho incontrato i sindaci della Versiglia compreso il sindaco di Stazema il sindaco di Pietrasanta il sindaco di Forte il sindaco di Massa il sindaco di Lucca e a Lucca c'è il problema della tangenziale è a massa della variante Aurelia della Questura e a Stazema il sindaco che non ha idee politiche molto vicine alle mie però mi ha detto è 50 anni che noi aspettiamo due chilometri di strada che uniscano due frazioni che sono frazioni che devono far parlare di sé non solo il 12 agosto per il ricordo della strage ma anche il 13 14 15 questi due chilometri per unire queste due frazioni in questo territorio straordinario oggi non hanno una strada e quindi bisogna farne 40 per andare da un punto all'altro voi sindaci c'eravate e lui dice è 50 anni che tutti mi promettono tutto due chilometri vediamo se ci riuscite voi ora io gli ho detto conto l'anno prossimo di venire a Sant'Anna con il progetto e il finanziamento dopo 50 anni di chiacchiere per questa benedetta strada che unisca le frazioni idem l'ho detto ai presidenti delle regioni Sicilia e Calabria la legge istitutiva della società stretto di Messina è del 1971 qua la metà della gente nel 71 non era ancora nata quindi è una legge che compie quest'anno 52 anni a dicembre in 52 anni non si è messa una pietra si sono spese centinaia di milioni di euro in progettazione ci sono 8000 tavole io mi sono studiato tutto il dossier in questi nove mesi è il ponte più studiato e mai realizzato al mondo è un diritto alla mobilità per milioni di calabrese e siciliani toglierebbe inquinamento dal mare coi traghetti e dall'aria tutti dicono green 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 e poi ci abbiamo gli ambientalisti che dicono no a un ponte che toglierebbe 140.000 tonnellate di emissioni di CO2 nell'aria non si può essere green quando conviene e anti green quando si tratta di dar contro alla lega quindi l'anno prossimo di questi tempi conto che i cantieri del ponte siano aperti e saremo qua a parlare del lavoro perché è green ma le stime dicono che in due terre affamate di lavoro perché è vero che le cose magari a Forte vanno bene a Milano a Cuneo a Bologna a Treviso a Torino però la disoccupazione giovannina in Italia è al 21% e in alcune regioni del sud è intorno al 40% quindi vuol dire che un ragazzo su due a Messina e a Reggio non trova lavoro e se gli va bene viene in una città del nord altrimenti prende l'aereo e va in un altro paese al mondo ecco questo tanto atteso ponte creerebbe nel corso degli anni centomila posti di lavoro veri poi il ponte non lo fa il ministro lo fanno gli ingegneri sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo 3 chilometri 3 attualmente il ponte a campata unica più lungo al mondo è di 2 chilometri mi dicono eh ma gli ingegneri italiani saranno in grado di farlo io penso che gli ingegneri italiani siano i migliori al mondo gli ingegneri italiani girano il mondo a fare opere d'arte incredibile dall'anno prossimo conto che siano gli ingegneri cinesi americani tedeschi giapponesi australiani a venire in italia a vedere che anche noi riusciamo a fare qualcosa di enorme ovviamente il ponte mi avessi fatto questa domanda 15 anni fa ti avrei risposto in maniera diversa perché 15 anni fa il ponte sarebbe stata una straordinaria opera di ingegneria in mezzo al mare senza niente né di qua né di là oggi non fare il ponte sarebbe demenziale perché oggi 12 agosto noi come italiani quindi voi stiamo investendo 18 miliardi in Sicilia per strade autostrade ferrovie più veloci e altri 18 miliardi in Calabria ma la domanda che io mi faccio a quelli che dicono il ponte non serve ma se io spendo decine di miliardi per arrivare in treno velocemente da Roma a Reggio Calabria spendo altri miliardi per arrivare velocemente in treno da Palermo a Messina oggi io arrivo velocemente in treno fermo il treno lo smonto lo metto sul traghetto attraverso lo stretto vado dall'altra parte lo rimonto e riparto due ore perse e 6 miliardi di euro di prodotto interno lordo persi ogni anno il ponte si ripaga in due anni e lo dico agli amici 5 Stelle il ponte che avrà i primi treni e le prime auto che passeranno nel 2032 costerà meno della metà di quello che ad oggi è costato agli italiani il reddito di cittadinanza col reddito di cittadinanza che non lascia niente e col ponte che che rimane poi ovviamente vedo e gli abbiamo fatto l'applauso l'anno scorso e lo rifacciamo quest'anno perché finalmente ogni mezza accusa è stata archiviata al governatore di noi lombardi Attilio Fontana forte marmino d'adozione ovviamente mi sto occupando anche del ponte della becca a Pavia del ponte di Calusco a Bergamo sto facendo un master se qua avete bisogno di un ponte sindaco facciamo qualcosa anche qua a proposito di questo ministro lei ha ereditato anche un problema annuso in questo paese che è quello dei cantieri ha citato i cantieri i cantieri i famosi cantieri autostradali proprio credo che molte di queste persone tocchino con mano il problema quelle che arrivano dalla Liguria la stessa Cisa insomma poi insomma le autostrade abbiamo visto sono state gestite negli ultimi anni in un modo abbastanza bizzarro per usare un offemismo sarà risolvibile questo problema della viabilità che già esiste che andrebbe solo come dire efficientata deve essere risolvibile poi è chiaro che in nove mesi le donne fanno un miracolo e mettono al mondo un figlio i ministri no quindi non risolvi in nove mesi i problemi di trent'anni fa però nel decreto che abbiamo approvato lunedì scorso nell'ultimo consiglio dei ministri ho inserito anche una norma sulle autostrade anche lì ci sono i comitati del no io però tiro dritto con un treno all'alta velocità serve il passante di Bologna serve il passante di Firenze serve la gronda di Genova serve anche la tirrenica che qualcuno anni fa fermò perché perché io ho trovato direttore dei cantieri fermati per motivi incredibili oggi c'era una manifestazione a Messina dei no ponte perché in Italia se qualcuno se non trovi il comitato del no e quindi i no tav i no tap i no expo i no ponte i no gronda leggevo che fra le motivazioni dei no ponte di oggi c'era che se facciamo il ponte disturbiamo i pesci per colpa dell'ombra del ponte e voi ridete ma è così e disturbiamo gli uccelli migratori che rischiano di andare a schiantarsi contro i cavi d'acciaio ma gli uccelli migratori sono più intelligenti di alcuni no ponte perché l'uccello migratore se vede il cavo d'acciaio va più su o va più giù si sposta come il pesce se vede l'ombra e gli dà fastidio si sposta ma per dire che e c'è il comitato che non vuole la gronda c'è il comitato che non vuole l'alta velocità c'è il comitato che non vuole il passante di Firenze noi fra dieci anni se non allarghiamo le autostrade siamo fermi in colonna per intasamento io sono stato a inaugurare la quarta corsia dinamica fra Milano e Bergamo che significa che se le tecamere permettono si può usare la corsia emergenza per fluidificare il traffico a settembre sarò a inaugurare la quinta corsia sulla Milano Laghi però serve avere coraggio serve avere coraggio perché qualcuno ti dice di no ovviamente io però occupo un ministero dove non posso tentennare dove non posso dire forse farò la strada quindi mi dicono però ministro stia attento perché le possono fare causa la corte dei conti il danno erariale l'abuso d'ufficio io tanto il mio processo a Palermo già ce l'ho perché ho bloccato uno sbarco di immigrati clandestini e lo farei domani mattina se tornassi a farlo perché perché guardiamo cosa sta accadendo di questi tempi e quindi io conto che nei prossimi quattro anni di governo si avvino tutti i cantieri pensavo le tre emergenze sono Bologna Firenze e Genova ovviamente la Versiglia qua ieri parlavo con i sindaci c'è il problema dell'Aurelia c'è il problema della Firenze Pisa Livorno c'è il problema della ferrovia perché l'alta velocità è stata disegnata in passato e ha eliminato un pezzo di Toscana e di Dorsale Tirrenica e quindi stiamo lavorando sul quadruplicamento fra Firenze Pistoia Montecatini Pisa Empoli con l'obiettivo di arrivare fino a Lucca e quindi di arrivare fin sul mare ovunque io vada trovo un comitato del no però siccome lo stipendio me lo pagate voi il mio impegno è di aprire tutti i cantieri di cui l'Italia ha bisogno e signori del no se ne faranno una ragione mi spiace per loro Ministro poi sugli immigrati ci ritorneremo ma finiamo questa parentesi infrastrutturale perché lei vuole fare tutte queste belle cose ma poi c'è l'Europa che dice attenzione fatele pure ma entro il 34 mi sembra che è domani non è che sembra lontano ma è domani dovete andare tutti con le auto elettriche perché se no non vi faccio circolare l'Italia il suo governo non è che la pensa esattamente in quel mondo 2035 non si potranno più né vendere né comprare auto se non elettriche questa è la norma approvata dall'Europa però questa norma secondo me idiota l'Europa farà un tagliando nel 2026 e quindi saranno ancora più fondamentali le elezioni europee dell'8 giugno dell'anno prossimo perché dire ma perché oggi c'è c'è gente che ha l'auto elettrica vuole l'auto elettrica sceglie l'auto elettrica siamo in un libero mercato e quindi è giusto usare anche l'auto elettrica dire solo l'auto elettrica significa ce lo diciamo sottovoce o essere ignoranti o essere a libro paga della Repubblica Popolare Comunista Cinese perché non ci sono altre spiegazioni perché le batterie vengono prodotte in Cina e quindi avessero detto anche elettrica e poi biomasse biocarburanti idrogeno e fuel parte che gli ultimi euro sei di ultima generazione emettono sostanzialmente zero quindi tu dici scegli beh Lenin è molto avanti in quella ricerca di carburanti emissione zero assolutamente quindi l'anno prossimo le elezioni europee entrano anche nel garage di casa vostra però aggiungo una riflessione anche in casa perché mentre l'auto solo elettrica è una follia 2035 ce n'è un'altra di follia che è quella sulla casa green e questo riguarda tutti voi se ancora non lo sapete spero di non darvi una brutta notizia ma anche qua siamo in democrazia se i numeri nel Parlamento europeo e in Commissione europea cambiano cambia la musica è stata approvata una norma per cui entro il 2030 tutte le residenze private a Forte dei Marmi a Milano a Tortona o a Reggio Calabria dovranno essere in classe energetica E ed entro il 2033 in classe energetica D quindi vuol dire che se uno oggi è F G o quello che vuole entro il 2030 deve spendere mediamente 50.000 euro per portarla in classe E ed entro il 2033 per fare un altro salto di classe energetica quindi cambi l'infisso la caldaia il tetto il controsoffitto e altri 30.000 euro ora questo può andar bene magari in Lussemburgo in Svezia in Lituania in Finlandia ma non in Italia dove abbiamo un patrimonio immobiliare incredibile dove abbiamo centri storici incredibili dove abbiamo degli immobili che sono un patrimonio dell'umanità che però non puoi lastricare di pannelli solari o quant'altro e soprattutto a Bruxelles quando approvi queste norme ma uno se non c'ha i 60.000 euro per comprare l'auto elettrica e i 50.000 euro per sistemarla a casa green i soldi dove li va a rubare quindi in un libero mercato tu dici ai cittadini se vuoi puoi fare questa scelta se non te lo puoi permettere no qualcuno a sinistra dice si possono pagare questi interventi con ulteriore tassazione sulla casa perché evidentemente chi ha più di una casa è ricco chi dice una roba del genere manca di rispetto nei confronti dei nostri genitori dei nostri nonni e dei nostri bisnonni per cui il valore della casa era un pezzo di carne per cui non si andava in vacanza per mettere via i risparmi per lasciare al figliolo la casa e quindi vale quello che ho detto prima sulla patrimoniale sui conti correnti nuove tasse sulle case sono assolutamente escluse però siamo in democrazia se gli equilibri in Europa col vostro voto l'anno prossimo cambiano sia la direttiva sulle auto elettriche sia la direttiva sul sistema a casa tua se no sei fuori mercato potranno cambiare ecco però il ministro ha toccato lei un nervo che apparentemente sempre leggendo le cronache quindi sempre con riserva è un nodo delicato che è il futuro governo europeo perché mi sembra di capire però non voglio difendere la categoria dei giornalisti a priori ma insomma con una certa ragione appare che come dire lei e il presidente Meloni in quanto leader di Fratelli d'Italia abbiate una visione non coincidente sul prossimo governo europeo detta male e in sintesi la Meloni è disponibile o addirittura vedrebbe di miglior occhio un'alleanza con i popolari popolari significa con i centristi per intenderci mentre lei appare più fermo sulla posizione storica della Lega cioè una grande alleanza con le destre europee la semplifico in 30 secondi perché è il 12 di agosto e quindi non tutti sono tenuti a conoscere gli equilibri numerici del Parlamento europeo l'anno prossimo dopo il voto dell'otto giugno possono succedere due cose quello che succede oggi perché oggi l'Europa è governata da un'alleanza centrodestra sinistra oggi in Europa ci sono i popolari che governano con Macron e con i socialisti tradotto in verse italiana forza Italia col PD e con i 5 stelle io cosa dico siccome tutte le elezioni in Europa stanno girando verso il centrodestra e le prossime elezioni saranno in Slovacchia saranno in Polonia torneranno a votare in Spagna ma anche le ultime elezioni in Finlandia in Grecia in Italia in tutta Europa stanno scegliendo il centrodestra perché è un momento storico così perché noi siamo per lo sviluppo per la crescita per le opere pubbliche per il merito per le libertà per il controllo dell'immigrazione clandestina per la sicurezza quindi evidentemente in tutta Europa c'è questa volontà io cosa dico che il centrodestra che ha vinto in Italia dovrebbe riproporre lo stesso modello a Bruxelles e a Strasburgo quindi se saremo abbastanza forti io propongo un accordo con i popolari quindi con i centristi con i conservatori ma anche con quelli che alcuni giornali italiani dipingono come gli estremisti più pericolosi al mondo che sono semplicemente persone che hanno a cuore i loro territori io fra Macron e Marine Le Pen scelgo tutta la vita Marine Le Pen io fra un'alleanza con i socialisti e con le sinistre e un'alleanza col centrodestra dico no no ecco io spero che nel centrodestra nessuno faccia l'errore di inseguire qualcuno di sinistra dicendo mai con quelli là perché la Le Pen è il primo partito in Francia i tedeschi a cui dicono di no sono il secondo partito in Germania gli austriaci con cui siamo alleati a cui dicono di no sono il primo partito in Austria i fiamminghi con cui la Lega è alleata a cui dicono di no sono il primo partito in Belgio e poi ci sono gli olandesi poi ci sono i rumeni insomma se inizi a mettere dei veti nel campo del centrodestra apri la strada all'unica alternativa che è un accordo con la sinistra io posso dire già da oggi e lo chiederò anche agli amici del centrodestra che il centrodestra si impegna a governare in Europa solo col centrodestra perché altrimenti follie come la casa green l'auto green e la bistecca finta e la farina di insetti e quelle menate lì andranno avanti e quindi perché dire di no e non voglio i francesi e non voglio i tedeschi e non voglio i polacchi e non voglio i fiamminghi e non voglio gli austriaci se dici non voglio la Le Pen dici voglio i socialisti io lo dico chiaro ogni voto che verrà alla Lega non andrà mai a Bruxelles a governare con la sinistra mai perché abbiamo già visto di che pasta sono fatti ecco allora chiuso questo capitolo torniamo a quello che lei ha solo accennato so che parlare con lei è un po' girare il coltello nella piaga ma insomma nella lotta l'immigrazione le cose non è che stanno andando benissimo guardando i numeri cos'è che non funziona che cosa dovrebbe cosa si potrebbe dovrebbe fare ragionamento numero uno che riparte dalla mezz'oretta di prima l'Europa che ci dice come dobbiamo sistemare casa a Forte dei Marmi come dobbiamo andare in giro in macchina a Pietrasanta e come dobbiamo mangiare fra Viareggio e Massarosa si occupa di tutto tranne che di una cosa della difesa dei confini europei perché secondo l'Europa Lampedusa è un confine italiano Lampedusa è un confine europeo e un'unione europea che si rispetti difende i suoi confini anche in Italia l'Europa fino ad oggi non ha fatto niente ci ha lasciato da soli da soli Tunisia Libia Egitto Pakistan Niger Centrafrica di tutto poi sono momenti storici io con l'amico Matteo Piantedosi ci ho governato perché era mio capo di gabinetto quando ero ministro dell'interno e parlando con lui e con Giorgio all'atto dell'ultimo consiglio dei ministri abbiamo fatto una scelta visti anche gli episodi di cronaca degli ultimi giorni mi hanno fermato tanti miei concittadini milanesi e io mi vergogno di come Milano è abbandonata e mal governata oggi perché è una roba incredibile l'insicurezza ma tutti in piazza Duomo i coglioni arrivano e quelli che vanno a fare i graffiti sulla galleria e i due francesi che fanno gli arrampicatori sulla guglia del Duomo e gli eco-vandali che vanno a dipingere di arancione la statua in piazza Duomo ma perché lo fanno perché sono cretini sì ma perché sanno anche che poi non ne pagano le conseguenze una riforma della giustizia come si deve è un altro tema di cui dobbiamo occuparci però sull'immigrazione non la voglio si deve fare di più e meglio tutti insieme perché poi ci sono gli uomini della guardia costiera ieri si è anche suicidato un uomo della guardia costiera che era in servizio e ringrazio le undicimila donne e uomini della guardia costiera che ogni giorno a Forte dei Marmi come a Lampedusa come sui laghi rischiano la vita per salvare altre vite e mi vergogno che qualcuno a sinistra abbia tirato nella polemica politica anche alla guardia costiera però così non si può andare avanti perché poi ovviamente il problema non è a Lampedusa io sto parlando col sindaco e il vice sindaco perché poi ovviamente se non vanno in Francia e non vanno in Germania perché qui là dicono accogliete 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 ne prendi un po' no quindi accogli tu pensaci tu e poi rimangono da te e quindi poi il problema arriva a Torino arriva a Roma arriva a Pisa arriva a Treviso non può andare avanti così a settembre dicevo ne parlavo con Piantedosi con Giorgia portiamo un altro decreto sicurezza per inasprire un po' le pene io poi da ministro dell'interno ho bloccato sicuramente gli sbarchi li avevamo ridotti del 90% li avevamo quasi azzerati l'ho fatto gratis no infatti sono a processo il 15 settembre sono a processo il chi ha applaudito viene con me a Palermo così perché è troppo comodo applaudire no do un annuncio alle signore il 6 ottobre al nuovo Cinema Italia al processo nell'aula bunker di Palermo verrà a testimoniare da Hollywood Richard Gere che si accettano per notazione ma pensate che immagine diamo dell'Italia nel mondo un ministro dell'interno ha difeso perché quella vicenda in 20 secondi piccola storia triste io sono a processo perché una nave spagnola pagata anche dal comune di Barcellona aveva raccolto immigrati in acque libiche e in acque maltesi e in dieci giorni andò in giro per il Mediterraneo con l'Italia non c'entrava nulla non aveva raccolto neanche un immigrato in acque italiane e con l'Italia non c'entrava nulla era una nave spagnola col comandante spagnolo raccolsero gli ultimi immigrati nelle acque maltesi Malta gli disse fermati qua che una quarantina me li prendo io così almeno hai meno problemi il comandante disse no o te li prendi tutti o nessuno Malta che non son scemi disse arrivederci e grazie questi andaron via dalle acque maltesi e dove diressero acque italiane il ministro era agosto di vieto di ingresso nelle acque territoriali italiane perché è un'imbarcazione che non compete a noi questi fanno ricorso al Tar pensate queste ONG e poi quando qualcuno dà i soldi anche ad alcune istituzioni caritatevoli poi pensiamoci bene quando si danno i soldi a Tizio Accaio il problema poi ce l'abbiamo nelle vie di casa nostra dunque io gli dico giusti non potete entrare nelle acque territoriali italiane questi fanno dalla barca ricorso al Tar ad agosto una barca spagnola il giudice del Tar italiano accoglie il ricorso cioè non accoglie la tesi del ministro dell'interno accoglie la tesi dell'associazione privata spagnola questi entrano nelle acque italiane si avvicinano al porto e io gli dico non attraccate chiamo la Spagna signori c'è una nave spagnola siete spagnoli prendeteli voi la Spagna cosa dice? sì e dico oi boh la Spagna dice sì ed ha questa nave spagnola un porto spagnolo siamo agosto del 2019 il comandante spagnolo dice no questo porto è troppo lontano non ce la faccio richiamo la Spagna gli date un altro porto la Spagna dice sì gli danno un altro porto il comandante spagnolo dice no non mi garba neanche questo allora richiamo la Spagna era sempre intorno a Ferragosto mi mandate una nave che se li viene a prendere dalla Spagna mi dicono sì anche a questo e parte dalla Spagna una nave per venirseli a prendere in Italia e portarseli in Spagna perché io sono decoccio cosa succede? questi entrano in porto e li fanno sbarcare nonostante il divieto nonostante la nave spagnola che stava arrivando a processo non va il comandante spagnolo che non è andato in Spagna va il ministro dell'interno italiano che aveva difeso i confini italiani questa è la vicenda per cui Richard Gier verrà a darmi del criminale il 6 di ottobre beh ci sarà anche Sabiano probabilmente eh no quello non manca mai non può mancare Sabiano si è offeso perché l'ho querelato perché mi ha definito ministro della malavita e puoi criticarmi per tante cose ma ministro della malavita a me non lo dici perché da ministro dell'interno le ville dei Casamonica ho partecipato anche io ad abbatterle quindi vediamoci in tribunale e vediamo poi per carità vediamoci in tribunale in Italia tutta questa edificante storia che ah Sabiano mi spiace pare che per scelta editoriale spontanea a me non me frega nulla non sarà in onda sulla Rai penso che ve ne farete una ragione dicevo questa edificante storiella ci rimanda appunto al tema della giustizia ha citato l'agonia a cui ha dovuto sottoporsi il governatore Fontana per un paio d'anni poi uscito totalmente pulito da quella vicenda la famosa vicenda del covid insomma dei camici covid e quant'altro la faccenda dei rubli che non è secondaria cioè lei è stato accusato di aver nascosto miliardi di rubli da qualche parte che non riuscivano a trovare poi alla fine erano qua in spiaggia a forza dei marmi erano fra il maito e la laide si sono arresi e insomma se potrebbe fare un elenco sterminato testimoniano che il problema della giustizia non è un problema teorico o ideologico o politico è un problema concreto questo governo ha dato l'impressione di partire un po' lancia in resta e poi insomma dire frenare un attimo nella riforma della giustizia il ministro Nordio è sostenuto dal governo della sua azione assolutamente convintamente è un galantuomo e spero che possa andare fino in fondo perché non è una riforma contro qualcuno anzi è una riforma di cui oltre che 60 milioni di italiani fruiranno in prima battuta le stesse migliaia di giudici che fanno bene e liberamente il loro lavoro senza pregiudizi ideologici di sinistra perché il problema della magistratura italiana è una minoranza di giudici politicamente orientata a sinistra ora io non conosco quella signora non mi permetto di dare giudizi e ho letto alcune frasi giornalistiche che mi hanno fatto inorridire mi riferisco all'omicidio di quella sessantenne a Rovereto uccisa mentre camminava in un parco da un trentasettenne nigeriano che aveva già dei precedenti penali e io spero che vengano smentite quelle frasi ma ad oggi non sono ancora state smentite la procuratrice competente per territorio in Trentino avrebbe detto in un'intervista pubblicata beh insomma non erano precedenti penali così gravi non doveva essere espulso anzi era anche una persona molto corretta che non aveva dato segnali di pericolosità e questa dovrebbe essere quella che poi dovrebbe giudicare questo tizio credo che avessi detto anche che è un bell'uomo vabbè questo si si l'ha scritto questo non non mi era mi era sfuggito e non non posso però in primis dire che era stupita perché lo riteneva una persona corretta uno che aveva aggredito dei carabinieri che ha ammazzato a pugni ammazzare una donna di 60 anni non con la pistola a pugni è una roba che in un paese normale ti comporta l'ergastolo e tu non esci vivo da quella cella fino alla fine dei tuoi giorni quando ammazzi un altro essere umano a pugni e a casa ma che un amministratore di giustizia mi dica ma è sempre stata una persona corretta e per bene era anche fisicamente a posto dico per fortuna pensa se fosse stato però al di là di questo la riforma la dobbiamo fare con i giudici con gli avvocati è urgente per i cittadini è urgente per le imprese un'istanza di fallimento non può andare avanti per quanto va avanti se affitti casa tua alla persona sbagliata non puoi aspettare anni per ritornare in possesso di casa tua su cui paghi limu senza che questo ti paghi l'affitto per quello che riguarda la giustizia minorile io ci sono particolarmente attento da papà non ci possono essere migliaia di bambini allontanati dalle loro mamme dai loro papai trattenuti per anni in istituti che allo Stato costano migliaia di euro quando ci sarebbero altri parenti di quegli stessi nuclei familiari pronti ad accoglierli e quei giudici minorili tanto attenti al disagio di alcune famiglie italiane sono un po' più distratte in altre situazioni e penso alla notizia di Cronaca di Monza di quella tizia di quella brava signora incinta del decimo figlio raprinatrice seriale che non poteva andare in carcere perché era per la decima volta incinta la Lega ha presentato una proposta di legge in cui finisci in galera lo stesso non per cattiveria ma non puoi usare la tua gravidanza come attrezzo di scasso e anche lì apriti c'è la sinistra ovviamente una riforma condivisa il ministro Nordio ha già messo i primi punti l'obiettivo finale per avere veramente un'amministrazione della giustizia che non abbia contiguità è la separazione delle carriere di chi indaga e di chi giudica perché chi indaga e chi giudica non può essere nello stesso ufficio perché se tu che accusi e tu che poi giudici sei a pranzo e a cena e al bagno in estate fianco a fianco è chiaro che devono essere due mestieri diversi con due carriere diverse e poi soprattutto due principi che tanti giudici mi chiedono di applicare uno come in tutte le categorie produttive pubbliche e private ci deve essere un indice di produttività anche nei tribunali italiani perché non è possibile che non ci sia una valutazione di produttività del giudice due chi sbaglia paga la responsabilità penale e civile per chi sbaglia con dolo sulla pelle e sulla libertà di un cittadino le do una notizia ministro che in realtà una cosa simile all'indice di produttività c'è ma il problema è che il 98% dei magistrati italiani escono con 10 cioè il massimo dei voti il che in qualsiasi categoria umana è tecnicamente impossibile tutti gli appartenenti a un ordine escano con 10 chiudendo velocemente con la giustizia poi andiamo a concludere in queste ore c'è anche un altro dibattito che si cerca di aprire stenta ma si cerca che è quello del 41 bis perché dopo cospito anche Mattia Matteo Messina Denaro il capo della mafia è in agli arresti con il 41 bis uno dice ma è malato bisogna abolire il 41 bis perché se uno è malato non può stare in carcere se uno è malato va curato però il 41 bis che impedisce ai mafiosi e ai terroristi di comunicare con il resto del mondo per quello che mi riguarda non si tocca quindi se Messina Denaro ha bisogno di cure siamo un paese civile va curato perché io non festeggio per le disgrazie di nessuno oggi se non ricordo male proprio oggi il ministro Nordio era al carcere di Torino dove ci sono state nel giro di poche ore due suicidi due detenute è la sconfitta di un paese un suicidio di qualcuno che è in carcere quindi sarebbe sotto la custodia sotto l'attenzione dello Stato però garantire una carcerazione civile quindi garantire spazi garantire lavoro garantire lavoro perché i detenuti che imparano un lavoro in carcere poi quando escono hanno un futuro se tu campeggi in carcere senza imparare nulla quando esci poi hai la recidiva quindi è fondamentale che ci sia il lavoro obbligatorio in carcere per tutti i detenuti e per tutte le detenute nel loro interesse per avviarsi a una professione e anche nell'interesse dello Stato perché se sei in carcere qualcosa di sbagliato hai fatto e ripaghi la comunità del costo che comporti per la comunità il tuo essere in carcere quindi diciamo che abbiamo cinque anni davanti anzi quattro anni e due mesi siamo a quasi trecento giorni di questo governo devo dire che io sono arrivato ieri pomeriggio però fra ieri sera e oggi che ho fatto due passi per il forte fortunatamente tanta gente mi dice bravi andate avanti si vede il cambio di passo si vede un'energia si vede una visione perché se fai il ministro delle infrastrutture non puoi ragionare come la politica italiana purtroppo troppo spesso fa all'arco di sei mesi cioè le prossime elezioni se tu devi pianificare una strada un'autostrada un ponte una ferrovia devi avere un arco temporale di dieci anni il ponte entra in funzione nel duemila e trentadue la TAV entra in funzione nel duemila e trentadue e andrò da ministro a fare un sopraluogo a quei cantieri perché non è possibile che ci siano ancora gli imbecilli dei centri sociali che prendono a sassati i poliziotti che presidiano i cantieri di una ferrovia siamo l'unico paese al mondo dove dobbiamo mettere la ferrovia sotto il controllo dei carabinieri e dei poliziotti il tunnel del Brennero in funzione del duemila e trentadue la metro C di Roma in funzione del duemila e trentadue duemila e venticinque anno del giubileo a Roma trenta milioni di pellegrini e servirà qualche taxi in più duemila e ventisei olimpiadi invernali Milano Cortina Lombardia e Veneto duemila e trenta Expo a Roma insomma io conto che nei prossimi cinque anni l'Italia viva una rivoluzione positiva come quella che visse nel secondo dopo guerra e negli anni dell'autostrada lei sa questo è il mio obiettivo questo è il mio impegno quando vado al ministero ecco lei immagino ministro che sappia che se per caso per qualche motivo andate a litigare tra di voi questi signori non ve lo perdonerebbero mai perché appunto o adesso o me più ma a proposito di possibili lite potremmo chiudere con un tema che so essere caro a lei e al suo partito che è quello della riforma istituzionale dell'autonomia che sta viaggiando in parallelo con la riforma costituzionale generale cioè quella di passare a un sistema di premierato cioè di eleggere direttamente il presidente del consiglio sono in agenda questi due temi sono in agenda ma non si riesce a capire quanto siano in agenda e quando diventeranno se non sono procedimenti complessi questo ce ne rendiamo conto ma insomma quando davvero si passerà dalle parole ai fatti se si passerà dalle parole no c'era ci sono sono degli obiettivi e li portiamo a casa non solo perché c'era nel programma elettorale quindi uno per serietà ho chiesto il voto per fare questo ma hai dato il voto e faccio questo saranno fondamentali per modernizzare il paese avanti di pari passo l'autonomia che il ministro Calderoli sta seguendo in maniera incredibile e costante sarà realtà entro il 2024 la riforma costituzionale ovviamente ha bisogno di due passaggi a camera e senato quindi probabilmente avrà bisogno di qualche mese in più però qual è l'obiettivo cioè di metterle insieme uno riforma costituzionale eleggere direttamente il governo e la maggioranza di governo e impedire per legge che il presidente del consiglio e la maggioranza che gli italiani scelgono possa cambiare durante i cinque anni della legislatura non ci potranno più essere ribaltoni e passaggi di casacche da qui scelgo quel governo scelgo quella maggioranza se salta quel presidente del consiglio e se salta quella maggioranza non è che arriva il governo tecnico i professori Tizio Caio Conte si torna a votare per serietà perché di gente che viene eletta da una parte e poi va dall'altra gli italiani ne hanno giustamente le scatole piene quindi un governo centrale più forte un governo centrale più forte con delle autonomie territoriali con più responsabilità la Costituzione già oggi prevede che la regione Lombardia o la regione Abruzzo possono chiedere allo Stato centrale di gestire a livello locale alcune competenze che oggi lo Stato gestisce poco e male nessuno perde un euro quindi i chiacchieroni che dicono penalizza il sud dicono con l'autonomia ci sarà problemi negli ospedali del sud e nelle scuole del sud ci sono già i problemi amico mio vai a vedere adesso le condizioni di alcuni ospedali del sud e di alcune scuole del sud se sono più indietro anche le infrastrutture del sud non è per colpa di Salvini Sallusti Fontana o dell'autonomia che non c'è è per colpa di politici incapaci che al sud hanno preso i voti per 50 anni senza fare quello che dovevano l'autonomia non significa togliere qualcosa a qualcuno se domani la Lombardia o l'Abruzzo vorranno gestire a livello territoriali qualcosa che lo Stato oggi gestisce male se invece di spendere 10 spenderanno 9 l'euro che risparmiano se lo tengono nella loro regione per ridurre le tasse ai loro cittadini quindi l'autonomia induce tutti a puntare al massimo a sprecare di meno e a spendere meglio chi ha paura dell'autonomia la sinistra che al sud ha magnato per 50 anni senza fare quello che doveva molto semplicemente ecco ministro mi fanno degli strani segni abbiamo già sforato però alla Gigi Marzullo chiudiamo si faccia una domanda e si dà una risposta e siamo tutti ma volevo aprire la discussione sulla campagna acquisti del Milan anche perché la prima foto che ho fatto entrando è con un ragazzo che aveva la maglietta dell'Inter non so se c'è ancora è stata una vile provocazione tu c'eri e hai assistito a questa cosa no scherzi a parte il 12 è il 12 agosto se penso all'anno scorso è cambiato il mondo alle incertezze il dopo covid chissà che succede avete scelto un governo con delle idee chiare è un governo politico non è un governo tecnico e quindi onori e oneri ci facciamo carico di alcune scelte l'abbiamo detto sul reddito di cittadinanza aggiungo due battaglie che come legami stanno particolarmente a cuore la flat tax quindi aumentare la flat tax per le partite IVA ai liberi professionisti i piccoli imprenditori alzare il tetto a 100.000 euro quindi pagare solo il 15% significa incentivare la produzione la pace fiscale ci sono 10 milioni di italiani che hanno ancora a che fare magari da 15 anni con l'agenzia delle entrate piuttosto che tenere a bilancio dei soldi che lo Stato non vedrà mai e sono persone non sono gli evasori totali io quelli li metterei in galera all'americana non ha mai fatto la dichiarazione di redditi non hai mai pagato una lira di tasse e sei in giro per il forte col fuoristrada se ti becco non ti do la multa ti metto in carcere perché hai mai preso in giro per una vita se invece hai fatto la dichiarazione di redditi ma hai avuto un brutto divorzio hai avuto un incidente il socio ti ha fregato lo Stato non ti ha pagato perché l'Italia è uno dei pochi paesi al mondo dove gli imprenditori chiudono per crediti e non per debiti e magari hai una cartella esattoriale da 15.000 euro perché il tuo dipendente ti ha creato un problema e non sei riuscito a pagare lo Stato con i 15.000 euro il giorno giusto e con le more con le sanzioni 15.000 sono diventati 20.000 30.000 50.000 uno Stato serio invece di far finta di niente dice a questi milioni di italiani dammi una parte di quello che mi devi io porto a casa una marea di miliardi per aumentare stipendi e pensioni e tu torni a sorridere a sperare a lavorare e a pagare le tasse io non voglio un paese con milioni di fantasmi in ostaggio e mi sembra un ragionamento normale quindi siamo qua da nove mesi in nove mesi non fai miracoli però spero che la vostra presenza stia anche a significare che si è visto un atteggiamento ripeto unito perché con gli amici del governo non abbiamo mai avuto poi avremo magari nei prossimi anni sicuramente ci saranno dei temi su cui avremo idee diverse però essendo un governo politico tranne la politica se ne scupe fai delle scelte però come fra marito e moglie non sempre puoi andare d'accordo e poi una soluzione una soluzione la trovi io penso che se manteniamo questa compattezza poi ci sarà bisogno di voi perché soprattutto sui media su alcune televisioni non penso a Libero anzi ringrazio e l'applauso al direttore di Libero che dedica una giornata delle sue ferie alla Versiliana però perché sono sempre più bravi a farsi sentire quelli del no domani sui giornali ci sarà la manifestazione del no Ponte a me sì ho visto i cartelli Salvini ma c'è stata una manifestazione l'ho messa sulle mie pagine social questa settimana a Napoli di quelli che erano incazzati per il taglio del reddito di cittadinanza e c'era questa signora con la telecamera davanti che gridava come un'ossessa Salvini cornuto cornuto e diceva madonna mia cosa l'ho fatto non la conosco peraltro mi sembrava in buona salute bella abbronzata con gli occhiali da sole quindi penso che in Italia se uno vuole cercare lavoro trova lavoro se va in giro a protestare a piangere evidentemente difficilmente il lavoro lo trovo quindi l'augurio che mi posso fare vi posso fare è trovarci l'anno prossimo con alcuni dei cantieri di cui stiamo parlando perché è chiaro che in nove mesi non fai un'autostrada o un ponte però l'anno prossimo di questi tempi alcuni dei cantieri su cui stiamo lavorando su cui stiamo progettando su cui stiamo sudando e facendo fatica l'anno prossimo saranno realtà anche perché ogni cantiere che apre è lavoro in più per operai muratori elettricisti falegnami ingegneri e la priorità per me è il lavoro non l'assistenza o i redditi di cittadinanza per stare a casa a guardare la televisione onorare il lavoro è una riflessione finale ringrazio non so non è qua però fra col ministro Giorgetti della Lega l'Economia sta facendo un lavoro enorme Calderoli sull'autonomia l'Alessandra Locatelli sulle disabilità permettetemi di chiudere con un altro ministro della Lega al ministro della scuola Valditara che oltre che a rinnovare il contratto degli insegnanti sta facendo qualcosa per cui da papà lo ringrazio in questi nove mesi sta lavorando per riportare nelle classi delle scuole dove vanno i nostri figli una cosa fondamentale che non apprezzo l'educazione e il rispetto per la maestra per l'insegnante per il professore perché se se il rispetto se il rispetto lo respiri in classe a sei anni e dieci anni a quindici anni e magari questo sarà un altro tema ne parleremo più avanti perché non possiamo mettere troppa carne al fuoco ma se magari nell'arco di questi cinque anni riusciremo a reintrodurre anche qualche mese di servizio militare servizio civile universale per portarlo avanti questo criterio del rispetto della generosità e del sacrificio avremo delle future generazioni migliori quindi ringrazio i sindaci qua presenti vedo il sindaco di Pisa il sindaco di Lucca il sindaco di Petrasanta fate un applauso ai sindaci che fanno un lavoro enorme grazie viva la Versiglia viva la Versiglia buone stati a tutti voi grazie a voi grazie a tutti 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 grazie a tutti